E' bella, brava e sempre in perfetta forma, ecco i segreti di bellezza di Bianca Guaccero. L'attrice Bianca Guaccero tiene molto alla sua forma fisica e su Instagram pubblica spesso foto e video in cui mostra i suoi follower e le sue sessioni di allenamento. Bianca si allena sempre con grande impegno e dedizione, utilizzando spesso il TRX come attrezzo per svolgere i suoi esercizi. Si tratta di uno strumento utile per allenare e tonificare diverse parti del corpo e può essere utilizzato anche comodamente a casa propria. In questo caso Bianca allena glutei e addominali eseguendo delle trazioni verso l'alto. Il gluteo viene allenato anche con questo esercizio attraverso delle contrazioni. Per allenare le braccia Bianca utilizza sempre il TRX, questa volta eseguendo delle trazioni frontali. Si tratta di un esercizio davvero efficace per tonificare e potenziare i muscoli della parte superiore del corpo. Gli allenamenti di Bianca proseguono poi anche a corpo libero, che possono essere eseguiti anche nel salotto di casa. Con questi piegamenti l'attrice allena i muscoli principali del corpo, ossia gambe, glutei e con l'aiuto di manubri anche braccia e spalle. Sempre a corpo libero, Bianca esegue dei piegamenti con salto verso l'alto, un esercizio molto intenso utile a migliorare gambe e glutei. Grazie a tutti!